Proverò a caricare qualche video di qualche altro pesciolino pescato in un'altra maniera Ma come ho saputo sin dal momento in cui ho smesso di fare video che un giorno avrei ricominciato So da quando ho smesso di fare pesca subacqua che ci sarà un giorno e qui farò pesca subacqua Quindi stay tuned e al prossimo video Ciao a tutti e bentornati nel canale Io sono Cristian ed ero realizzare video di pesca subacqua e in generale video sul mondo sommerso In questo breve ma intenso video voglio ripercorrere con voi tutti i video di quest'anno Che per me è stato molto speciale Avevo tra virgolette abbandonato l'avventura di YouTube quando mi sono trasferito in Inghilterra Per chi non lo sapesse circa, adesso andiamo quasi per i sei anni Sei anni fa mi sono trasferito in Inghilterra per motivi lavorativi E per maggiore forza di causa ho dovuto tra virgolette abbandonare la pesca subacqua E con essa anche la realizzazione di video Ma come appena detto in un video di un paio di anni fa Ho sempre saputo che arrivato a un certo momento della mia storia fino ad oggi qui Avrei ricominciato a fare pesca subacqua E questo è quello che è accaduto nel 2020 Questo sarà l'ultimo video del 2020 E voglio cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti uno ad uno Per augurarvi buone feste e buon inizio anno E speriamo che il nuovo anno sia decisamente migliore di quello passato Volevo inoltre ringraziarvi per il supporto al canale Per i like, i commenti, le nuove iscrizioni E soprattutto per gli acquisti attraverso i link Amazon Grazie al quale avete supportato mensilmente molti ragazzi supportati dalla Teenager Cancer Trust Per chi non sapesse di cosa sto parlando vi metto il link qui sotto Di nuovo grazie e noi ci vediamo nel 2021 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti